Buongiorno a tutti, iniziamo la conferenza stampa. Rosso Mando, Roma Radio. Salve mister, con le volevo chiedere, viste le indisponibilità e gli infortuni che ci sono stati per quanto riguarda l'attacco, le volevo chiedere se Cristante o Veritù possono essere considerate delle risorse per quanto riguarda il ruolo del trequartista? Esta è talvez delle volte più facile di escogliere l'equipo, face a tante ausenze non è molto difficile adivinare chi va a giocare, embora non lo vado a rivelare qui, ma con tante ausenze e con un leggo di opzioni che sono ridoside, ovviamente è facile adivinare cosa succede. Questa è probabilmente una delle volte in cui sarà più facile per me scegliere, visto le tante assenze e le scelte ridotte, e per voi indovinare quello che succederà e la formazione, anche se io appunto, come solitamente faccio, non scenderò nei dettagli. Serafini, Roma TV Salve mister, domani si conclude, è un periodo molto intenso, praticamente si è giocato ogni 3-4 giorni, può fare un bilancio di questo periodo e che partita si aspetta domani? Espero una partita difficile, Luca Agliari sta a fare un ottimo campionato, ha un ottimo campionato, ha venuto a conseguire in questi ultimi tempi bons risultati, portanto spero un gioco molto exigente e molto difficile. È come dice, l'ultimo gioco di questo periodo difficile, in cui praticamente non c'è tempo per treinare, non c'è tempo per recuperare i giocatori, a equipa ha rispondito bene dal punto di vista fisico, è questo momento e io spero che amanhã noi ci possiamo appresentare a un livello che ci permette vencere. Beh, mi aspetto una partita difficile e complicata contro una squadra che sta disputando un eccellente campionato, una buona squadra che viene da diversi risultati positivi, quindi ecco, sarà una partita complicata ed esigente. Veniamo sì da un periodo complicato, con pochissimo tempo a disposizione per allenarci, per recuperare, la squadra ha fin qui risposto bene dal punto di vista fisico e spero che domani ci potremo presentare a un livello sufficiente per poter vincere la partita. Se può ampliare un pochino la prima risposta che ha dato. Secondo lei, come caratteristiche tecniche, chi più è adatto in emergenza tra Veretù e Cristante a ricoprire un ruolo di trequartista dietro Dzeko, come caratteristiche tecniche secondo lei? E se Pastore può giocare due partite ogni tre giorni? O perché l'abbiamo visto un po' in difficoltà, un po' sotto ritmo in Europa-Liga? È difficile, neste momento, o Pastore, fare due partite seguide senza tempo sufficiente per recuperare. Assumo questo senza qualche problema. Ainda prossimo abbiamo meno di 72 ore per questo gioco. È difficile la opzione a ricoprire, neste momento, a ricoprire il Pastor, devido a questo. Dopo, relativamente al Cristante, al Vertù, il Cristante già desempegò queste funzioni nel passato. Credo che dentro di questa forma di giocare, uno e l'altro non sono le che hanno le caratteristiche ideali per giocare in questa posizione, perché il nostro numero 10, come costumo chiamare, non è un tradizionale numero 10. Desempegò funzioni che procurano con determinati spazi che non sono esattamente di un normale numero 10, ma, ovviamente, la scuola dovrà ricoprire in uno. Per quanto riguarda Pastore, è difficile, in questo momento, per lui giocare due partite in poco tempo senza recuperare completamente, a maggior ragione adesso che sono meno di 72 partite tra una gara e l'altra. Per quanto riguarda Cristante e Vertù, Cristante ha già svolto questo ruolo in passato, anche se per questo nostro modo di giocare sia l'uno che l'altro non hanno le caratteristiche ideali per ricoprire questo ruolo, perché per noi il numero 10, come identifichiamo questa posizione, non è il classico numero 10 perché svolge delle funzioni diverse, occupa degli spazi diversi rispetto a quelli soliti, ma, viste le circostanze, la scelta dovrà inevitabilmente ricadere su uno di loro due. Senta, poi un'ultima cosa su un tema di stretta attualità che è quello legato agli infortuni. Superficialmente si può dire che gli infortuni succedono in tutte le squadre, però ci sono dei dati, dei dati oggettivi, che dicono che la Roma in questo inizio di stagione già ha avuto nove giocatori infortunati. Tre sono traumatici e li possiamo lasciare stare. Sei però sono, sette, perché Mkhitaryan è il settimo, sono infortuni muscolari. è un problema, no? È un problema per lei, per la rosa sempre più ristretta. Cosa si può fare di più? Io non vorrei parlare in dettaglio di qualsiasi in particolare. Lo che stiamo a fare è per che le cose non succedere. Ha qui una politica di rigor in tutti i paràmetri del club per che le cose non succedere. non succedere. Devo dire che quella lezione che succede con la maggior frequenza, e repare che questo è un problema che non è solo in Roma. è un problema che non è solo in Roma, ma è un problema di tutte le squadre. È un problema di tutte le squadre e tutte le squadre, che succedono tutte le squadre. Ma quello che è il principale problema per il giocatore è la lesione del ischio tibial. e, infelizmente, noi solo avevamo un caso. E questo potrebbe indiciare che, realmente, potrebbe avere un malo planeamento, un malo lavoro di tutte le squadre in questo aspetto. Non è quello che è successo. E ci sono altre cose che devemo tenere in conto, che è quello che è il passato recente in termini di lesioni relativamente ai giocatori. e ha qui, chiaramente, reincidenza in giocatori che sono giocatori di rischio. E questo è successo qui. E poi, le altre lesioni sono casuali. È impossibile controllare. Non c'è nessuno che non c'è nessuno che consiga anticipare o prever che va a succedere lo che è successo con il Zapacosta o con il Pelegrino. Non c'è nessuno che non c'è nessuno che può controllare. E, ovviamente, non c'è nessuno che può controllare. Ora, se stiamo attenti, se stiamo a lavorare ogni giorno, per che queste situazioni non succederemo, stiamo. e, ovviamente, non c'è nessuno che non c'è nessuno che non c'è nessuno che può controllare. che non c'è nessuno che non c'è nessuno che può controllare. però, per quanto riguarda questa densità di giocatori di giocatori, la mia questione è se stanno tutti a lavorare male? Sanno tutti incompetenti? E, qui, levanto questa questione se, realmente, questa sequenza di giocatori, questa densità di giocatori è adequata per quello che è il esforzo fisico di un giocatore di futebol. perché non è un caso isolato da Roma. Se stiverem attenti, sono casi che succedono frequentemente, tutte le settimane, e in equipi che hanno questa densità di giocatori. Non parlerò in dettaglio di ciascun infortunio, senza entrare nei dettagli, nelle pieghe di ciascun caso. Però, ecco, la questione è se stiamo facendo tutto quello che è possibile per cercare di prevenire questi infortuni, e la risposta è assolutamente sì. C'è una politica molto rigorosa da parte del club in questo senso, rispettosa di parametri scientifici. Poi, a questo punto, ecco, va detto che l'infortunio più frequente che si registra nelle squadre di calcio a questo punto della stagione è quello dell'infortunio ischio tibiale. E noi, nel nostro caso, abbiamo avuto, per fortuna, soltanto un singolo caso di questo tipo di infortunio. Ecco, se ci fossero stati numerosi infortuni di questo tipo, si sarebbe potuto parlare di una cattiva pianificazione. Poi, ecco, un altro aspetto di cui tener conto è quello del recente passato di infortuni di calciatori. È elevato il numero di recidive, di ricadute che ci sono state in questi casi di giocatori già a rischio. Poi, vi sono una serie di infortuni che sono casuali, che è impossibile controllare, che nessuno può prevedere. È il caso di Zappacosta, di Pellegrini, dello stesso Bois. Sono situazioni casuali che succedono nel calcio e né io né nessuno è in grado di controllare. La vera questione è se si sta lavorando per prevenire questo tipo di infortuni e la risposta, come dicevo, è assolutamente sì. Ma, ripeto, questo è qualcosa che succede non soltanto nella Roma, ma in tutte le squadre che giocano con questa frequenza che competono su diversi fronti. Quindi, ecco, la domanda che io sollevo è se si verifica questo in tutti i grandi club europei che competono a questo livello e se, allora, a questo punto c'è da chiedersi se tutti stanno lavorando male, se tutti sono incompetenti o se questa sequenza di partite ravvicinate sia adeguata a quello che è lo sforzo fisico di un calciatore professionista. Perché, ripeto, questo si verifica non soltanto alla Roma, dove magari l'attenzione mediatica è molto forte, ma in tutte le squadre che competono su più fronti in così poco tempo. come sta Florenzi e se Paolo Lopez domani tornerà a giocare dall'inizio? Sì, Paolo, giocherà da inizio. Sì, Paolo domani giocherà dall'inizio, sarà a disposizione, mentre Florenzi purtroppo non ha recuperato, oggi non si è allenato e a casa ha influenzato. Vi ha fuori il tempo. Buongiorno mister. Dopo la partita di Europa League mi ha colpito la dichiarazione di un giocatore che ha detto, anche un pareggio fuori casa con il Wolfsberger va bene. Le chiedo, lei che cosa pensa di questa frase? Non crede che magari una rabbia positiva dopo un pareggio del genere aiuti nel fare uno scatto di mentalità ed sia sbagliato accontentarsi di un pareggio fuori casa con una squadra buona come il Wolfsberger, però resta sempre Wolfsberger contro Roma. Grazie. Chi è che dice? Cristian. Cristian, sì. Provavelmente terà detto in un contesto especial, perché tutti qui sappiamo che io solo sto satisfeito quando vencemo. E l'ambizione, sia di giocare contro il Wolfsberger, o contro il Milan, o contro la Juve, è sempre vencere. E il dei giocatori, anche. Beh, probabilmente, dopo il gioco e dopo aver visto il risultato, dopo aver visto il risultato, manteremo il primo giro nella posizione. Probabilmente, lo Cristian, credo io, lo che ci dirà a dire è che è un malo meno. Perché tutti qui sappiamo che e noi solo siamo satisfeiti quando vencemo. E abbiamo sempre questa ambizione di vencere. credo, credo che il giocatore, non se calhar nelle migliori parole, nelle certe parole, hanno chiesto di dire che è un malo meno termos empattato in un gioco che dovremmo aver venuto. Giocatore. Beh, probabilmente ha inserito queste parole all'interno di un contesto ben particolare. Tutti sanno che sono e siamo contenti soltanto quando vinciamo e che abbiamo la stessa ambizione contro qualunque squadra, quale che sia il nome dell'avversario di turno. Forse, probabilmente, dopo la partita, la luce anche del risultato dell'altra sfida del Girone, avendo mantenuto il primo posto, è possibile che Cristian abbia detto, abbia lasciato intendere che questo pareggio, tutto sommato, era il male minore, trattandosi una partita comunque insidiosa. Perché tutti sanno perfettamente che la nostra ambizione è quella di vincere sempre. Quindi, ecco, credo che, sì, per non scegliere le parole migliori, intendesse questo. Devo anche dire più. Ovviamente, voi non avete accesso, ma quello che ho visto nel balneario, dopo il gioco, fu una insatisfazione dei giocatori. Un balneario che era chateato per non aver venuto. Questo è quello che ho visto da parte di tutti i giocatori. E, più, Cristian è uno dei giocatori più ambiciosi della squadra. e le parole sono, ma io valorizo, è quello che i giocatori fanno dentro del campo. E quello che ho visto sempre, è il Cristian come uno dei leader dell'equipo, uno dei più esigenti e uno dei più ambiciosi. di più. Voi, ovviamente, non avete accesso allo spogliatore nel dopo partita, ma l'ambiente che ho visto nello spogliatore dopo la gara era di profonda insoddisfazione e di rabbia per non aver vinto la partita da parte di tutti. E poi, Cristian è uno dei più ambiziosi della squadra. Tutto sommato, le parole lasciano il tempo che trovano. Io do invece la massima importanza ai fatti che si fanno sul campo e Cristian è uno dei leader e dei giocatori più esigenti di questa squadra. Dubaldo, Corriere dello Sport. Buongiorno, Mister. Vorrei parlarle di due giocatori che sono in questo momento in vetrina alla Roma e che hanno un'esposizione anche mediatica, ossia due giovani, Zaniolo e Klaivert. Due giocatori che incidono molto anche sul conto dei gol che la Roma segna. e negli ultimi tempi la Roma, ho fatto un calcolo, nelle prime quattro partite ha fatto una media di tre gol a partita, nelle ultime quattro una media di un solo gol a partita. Questi giocatori che danno comunque vivacità, che hanno delle qualità molto, molto importanti, a mio modo di vedere spesso sbagliano la scelta finale, quella del tiro anziché del passaggio. Ecco, lei sta lavorando su questo e anche sull'atteggiamento in campo di questi due giocatori. a me è colpito molto che sia Klaivert che Zaniolo hanno preso due ammunizioni per proteste in una partita come quella di giovedì scorso. Comunque la Roma ha un numero elevato di ammunizioni. Lei sta lavorando anche con questo, soprattutto con questi giovani che hanno bisogno magari di avere una linea da seguire? Sì, io concordo con te. La verità è che noi creiamo situazioni per fare, situazioni in cui arriviamo al ultimo terzo, e poi è verità che le decisioni del Zaniolo, le decisioni del Klaivert non sempre sono le più acertate. Siamo poco rigurosi nella questione del ultimo passo, della assistenza, del crossamento, e è una cosa che abbiamo venuto a parlare e a lavorare, mesmo non avendo tempo per lo fare, è una questione che è stata abordata tra noi che abbiamo bisogno di acertare più sulle le decisioni. e la verità è che sono i giovedì e questa questione non si trova tanto con i giovedì più esperimenti, e questo ha un po' a vero con la idade, con la sua esperienza. Credo che con il tempo che si trova più, perché fa parte del suo crescimento natural come giocatori. Ora, che è fondamentale face a quello che creiamo, poi siamo effettivi nelle ultime decisioni, è fondamentale che questo succedere, se stiamo a lavorare, embora non abbiamo molto tempo per lo fare, è una questione che sta chiaramente a essere cuidata. Sì, sono d'accordo con lei. Spesso creiamo occasioni, arriviamo negli ultimi trenta metri e poi magari sbagliamo l'ultima scelta. Questo è successo più di qualche volta sia a Zaniolo che a Klaivert. È vero che in quella zona di campo spesso siamo poco rigorosi quando dobbiamo fare l'assist, l'ultimo passaggio, il cross. È una questione di cui abbiamo parlato, anche se al momento non c'è moltissimo tempo, però è un tema che abbiamo affrontato e ne abbiamo parlato. Abbiamo sottolineato l'importanza di essere più precisi in quella zona di campo. Però credo che questa sia una questione che riguarda più che altro la loro giovane età. Sono entrambi calciatori giovani e sono sicuro che con il tempo la loro precisione aumenterà perché questo fa parte di un normale percorso di crescita di un calciatore. Però indubbiamente sarà importante migliorare da quel punto di vista e essere più efficaci in quel momento. Comunque sì, assolutamente un tema questo sul quale ci stiamo concentrando e che stiamo curando. come su questo? È un tema del municione? Come su questo? Come su questo? E' un tema del municione? E' un tema del municione? Escolta il municione? In un altro gioco c'è alcun esagero nella forma come si mostrano i cartoni amarelli, in faltas normali, in faltas che non rappresentano un prego. E l'ultimo gioco di Lecce è stato un grande esempio. Alcuni cartellini erano meritati, giusti, ma in altri casi non credo, in particolare con la gara contro il Lecce sono stati cartellini dati con troppa facilità. Mi sembra che ci sia un'esagerazione con la facilità con la quale vengono mostrati in situazioni di gioco normale che non costituiscono un pericolo particolare. In particolare questo è successo nella gara con il Lecce. Frenquelli, il romanista. Volevo sapere se avesse mai preso in considerazione l'opzione di schierare Spinazzola alto a sinistra come alternativa. Se Spinazzola potrebbe giocare di ala? No, non ho preso in considerazione. De Angelis, Redesport. Buongiorno mister. Ieri Nainggolan in un'intervista a Repubblica ha detto che in questo momento forse la Roma ha pochi giocatori di personalità e che per giocare nella Roma ci vogliono le palle. Quando poi gli hanno chiesto del famoso ambiente romano ha detto che radio, tv e giornali sono un po' ovunque. Volevo sapere cosa pensa delle dichiarazioni di Nainggolan e cosa pensa del famigerato ambiente romano. Io non penso rigorosamente niente. È a opinion dell'altro. Isto sono parole antes dei giocatori. Quero giocare un pochettino con la pressione. io percebo chiaramente la intenzione di Nainggolan, ma non valorizzo. A me non mi dice rigorosamente niente. La pressione del ambiente qui a Roma è molto più grande. Questa è la pressione che non voglio vivere questa pressione non può essere profissional di futebol. È questa la realtà. Questa è la pressione. Questa è la pressione che ho sempre sentito qui a Roma è sempre un grande appoio dei nostri adepti. Ainda ora, in Austria, abbiamo un grande appoio di persone che credono nella nostra equipa e nei nostri giocatori. Abbiamo sempre un ambiente fantastico nel stadio. Abbiamo sempre un giocatore a apoiare la equipa. E io credo che noi devemo valorizzare questo. Devemo essere orgogliosi di questo. La pressione existe a tutti gli altri. E, principalmente, existe pressione quando siamo in equipi che vogliono ganare. E qui non voglio vivere con la pressione, arrangere un campo e va a cultivare batata o altro. E non c'è pressione nulla. No futebol, chi non voglia avere pressione, solo deve abandonare e desistir perché non è vita per persone che pensano che non c'è pressione. non c'è pressione. Non voglio sinceramente commentare le parole di Nengolà nella sua opinione. Poi sono parole così pronunciate prima di una partita. Probabilmente c'è anche un intento di giocare con questa vigilia, di creare una certa pressione. Capisco la sua intenzione, però con queste parole sinceramente non preferisco non commentarle. Per quanto riguarda la questione della pressione, chi non vorrebbe convivere con questo tipo di pressione? Chi non è in grado di sopportare questo tipo di pressione non può fare il calciatore professionista. In particolare mi chiedevano dell'ambiente romano. Io quello che vedo è che sento sempre il sostegno costante dei nostri tifosi. Anche nell'ultima partita erano tantissimi, tantissima gente che crede in noi, che crea sempre un ambiente bellissimo in casa e fuori casa, che ci segue con un gran numero di tifosi in trasferta. Qualcosa che invece va apprezzato e di cui sentirsi orgogliosi. Poi la pressione c'è dovunque, in particolare laddove si vuole vincere. E chi non vorrebbe fare i conti con questo tipo di pressione? Chi non è in grado di sopportarla probabilmente dovrebbe prendersi un bel appezzamento di terreno e mettersi a coltivare patate o qualcos'altro. In questo modo sì, di sicuro sarebbe più rilassato. Nel calcio c'è pressione e bisogna accettarla e ben venga. Facciamo l'ultima. Rocchetti, ti è verso. Buongiorno mister, ha segnato quattro gol di testa il Cagliari su nove totali. Si ha pensato a due centrali molto forti fisicamente, ad esempio Fazio e Smalling rispetto a Jesus e Mancini. E poi se si aspettava di più da Kalinic in questo momento rispetto a quello che ha dato finora in campo. una risposta più importante. Per quanto riguarda Kalinic? 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 Tutti comprendono che si trattava della sua prima partita. Non giocava una partita dall'inizio da molto tempo. Quindi ovviamente non poteva stare al meglio. Può fare di più? Sì sicuramente. Ma di sicuro lo farà. Perché come ho già detto in altre occasioni e voi lo sapete probabilmente anche meglio di me perché Kalinic ha già giocato nel campionato italiano l'avete visto in azione da vicino. È un giocatore di innegabile qualità. Su questo non c'è il minimo dubbio. Così come non c'è il minimo dubbio che era la sua prima partita e che migliorerà perché migliorerà l'intesa con i compagni migliorerà lui fisicamente. Per quanto riguarda l'altra questione lei sta cercando di farmi dire chi sarà la coppia di centrali che giocherà. Però non ve lo rivelerò oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.